capo te vieni a fare una corfatina per il meme o hai trovato o hai trovato erdorado dentro al cornasa mamma mia capo che c'avevi là dentro fammi vedere pure a me dovevi spostare due quadri non ci avevo pensato ufficiale tu l'hai vista la mia sedia? la mia sedia l'hai vista guarda la tua sedia ah bella 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 sembra degli sedi sembro piramid dead holy shit sapete che camminata era questa? camminata da bifolco spergiurato lo sapete che mi va di fare? a me mi va di fare due madri ma nonostante ciò lo rispetto il fatto che non lo faccio ah regà voglio farmi tuo padre giammo ah si a me mi va di fare paradiso di dolciumi beh mi piace però paradiso dei dolciumi con la palla normale perché ho messo cava palla perché non so famo cava palla dal 15-18 veramente però ho messo che le palle ci hanno tutte grandezze casuali quindi magari tu tipo magari non sborri da un po' o magari hai appena sborrato e c'è sta pure il sarto ovviamente no c'ho la palla grossa c'ho un braccio c'ho la palla grossa c'ho il tag a cagarmici dentro c'ho la palla grossa ma ci sono le colline no le colline mi senti no 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 però ci sono i salti si sto i salti i salti con me off eh va a fa culo vai sul sicuro a ci salti sono la cosa migliore del mondo male che cazzo sta a fa no ma di nuovo Ale no no mi sono dimenticato che questa è il minion guarda che era quello dei primi ma chi è mamma non menarmi ma chi è mamma non menarmi che c'ha il cappellino dei massicrani special deluxe ma starò zitta sempre dunque penso che è la cosa più cattiva che abbia fatto da ragazzino che non sapevo che poi potevano essere pericolosi io si si io ho messo le mettevo le bombette in bocca del lucerto ma ragazzi ma che è sto tiro cosa facevi le bombette in me in bocca del lucerto che mi sono inventato eh ma ero piccolino no ah frate ma sta cosa ti mette oh dio cappù sta cosa ti mette le bombe si pure mi nonno che ho detto oggi che metteva i sigari in bocca ai rospi poracci che poi cominciamo tipo a fa tutta una sostanza strana e poi scoppiavano tipo ma non mi dispiace pure però da ragazzino non ci c'è non interessava l'argomento eh già ma non chiedere cosa ufficiale che so non chiedere ma sai cosa e qual è il problema è che mi hanno seguito tutti ah si 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 ma l'idea era giù c'è era giù c'è no ma dai ma sto entrato ma si ma sto palesimente entrato di ho can ma pensavo che uscisse no lo sbagliava fuori bad trolling di Gianmarco dopo ma ti da piccolo mangiavo lucetto da perdere da ragazzino e poi mi facevo un bocchino non la conosci qua all'explicit version ma ora ce le api io ho capito che tu non fai male quello che cazzo vuoi sì ma cioè me devi lasciarsta a me tu non ti avvicini a me io non ti faccio niente a te ma le api in realtà quelle sono le vespe che so stronze no si me stai avvicini non me se devi avvicinare a me non ti devi avvicinare niente legge ma te l'hanno insegnata ad Harvard ma sono elegante ma sono quello ma sono quello bello fratello questa cosa la voglio fare anche se in realtà si potrebbe mettere pure il normale così marzone che ne pensi del fatto che potevano farla in uno eh non mi ha saltato sì ma era troppo Gianmarco Tocco Gianmarco Tocco elegante che bello gli insegnano come fare buca in uno ma non gli insegnano come investire 100 euro in una ruota incredibile c'è un po' su Gargarozzo sti eh è un po' di ufficienza se mi da altri 100 di moltiplica ma la consigliere la ufficiale eh ma la considera sì il problema è che per farla entrare o sei o sei me o non sei me no no ma ma io ma io è probabilmente meglio non essere ma fatti io vaffanculo col cazzo che c'è proprio ma non lo vedi che è pieno di roba ma che cazzo fai per la guardia di finanza eh ma come avete fatto andava con colpo mamma mia bella eh ma è uno figo ma è uno ufficiale ma scusa ma come fai a fare tutti i ribelli ma poi non essere mai vieni qua lo sai che qui la puoi metti ma sai che qui mia madre è puttana no tu dici in una così diciamo per caso e l'ho messo in una ma la seconda botta non ci sto credendo ragazzi non ci voglio credere già ma è il cibo che hai preso no ragazzi mi è andata lunga da un nome il gioco che hai preso diamo ciliatus no no è il tipo non il nome proprio tipo francesco er ciliatus ciliatus è il tipo il serpente in casa non lo so c'è nel senso fighi da vedere però capito poi nella teca così non lo so non lo farei mi fa impazzire l'argomento mai che non ho saltato dopo la sbaglio io se sbaglio sempre questa la cincilla ce l'aveva ce l'aveva zamp no 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 simpatici io c'è sempre il coglione grosso ma stava scherzà ma stava scherzà stava scherzà è uno scherzo divino è uno scherzo brutto è uno scherzo brutto è uno scherzo brutto 3 3 basta 3 basta ed è enorme mi voglio cagare addosso ragazzi voglio cagarmi addosso lo possiamo dire che è bello Gianmarco Tocco lo possiamo dire che è elegante Gianmarco Tocco ma che è ma rimbalza nei muri invisibili ma entro là guarda o facilotto ne sa facilotto ne sa toccherebbe recuperare un po' le posizioni no è quella mappa che io non so ancora capito come si fa non come ho fatta io di sicuro vabbè seppi non ho capito come si fa significa falla in all in one a me non mi dispiace guarda Alessandra ha preso la route facile io ho sempre sempre in all in one ma sempre al secondo tentativo voglio morì viaggiamo di vedere Gecko Fantasticus è il Gecko più bello del mondo sei interessato al Gecko Fantasticus? mi sembra un po' un nome strano non lo conosco sai è il Gecko del Sium ma si se si trolla questa è finita la classe non è acqua ma sporra la fragola tu easy tu fucking easy all senza toccare niente male 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 Dacci il comando Marzone Dacci il comando e si fa fuoco Abbiamo preso la root facile Te mando un pacco a casa E ci metto il registratore con dei root registrati Non mi ricordo come si fa questo Ma è geniale La classe sborra la fragola anche qua Nooo Andeservettissimo Andeservettissimo L'avevo fatta in una Ma ha rimbalzato un weirdo No io non ci posso credere Mi auto mangio il coglione Ma che hai fatto? Accivinghia Accivinghia bro Che cazzo sei Tonio Cartonio Grazie Grazie C'ho la mamma molto strana C'ho la mamma molto strana No niente Sei All the way Per provare i buchi in uno Dio stronzo Non dire così Agge provata l'impossibile Agge provata Eh agge che ho maestra Agge fatto bene Quanto l'hai fatta Marzò? Due Due signori È troppo forte È troppo troppo forte Sì ma quando c'ha la pallina rosa Si chiama Alessandro Ma ne che il campo Ma dove vai? Palla Ma dove vai? Quell'Alessandro Dove ho detto pallina rosa E si chiama Alessandro Questo è lo smurf del k Anzi fake 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 smurf Poteva andrà molto peggio Poteva andrà La legge è terzo Signori Brutta trollata Il maestro Domina Una mappa Da lui ormai conosciuta Troppo forte Il maestro Signori Veramente troppo forte Veramente troppo forte Fermati Eh marzò Eh frate Eh l'unica Sì Tira Provvede a tirare Una pipetta A due Dai Ma che stop Ammazza Che zilletta No Il fratello Male male Malissimo Gianmarco Dotto Malissimo Tiè Almeno però Di giustizia Malissimo Di giustizia Te lo regalo io A te Almeno Ha vinto il marzone No Purtroppo Non ancora Perché dici Che ho vinto Big bro Eh little bro Eh sì Non è che dico Eh GD1G GD1G Mastra Grazie per i nove mesi GD1G GD1G Raga c'è serve il miracolo C'è parlamo Sei seri Eh ma il maestro Sta qua Dai Fatti che stanno a parlare Ah Ah No A me Aiuto Mi ha attaccato lei Però Eh maesta L'ha messa No non ho messo Un cazzo Non ho messo Ma perché Cazzo L'avevamo pure giocata bene Questa Dio porco Ma che Perché ho fatto Questa cosa Ha vinta Giammar Guarda Mi hanno buttato La palle Ma vai a fare I bocchini Gigi Marzo Gigi Tu lo sai Che è la prima volta In dieci anni Che gioco a golf Che mi succede Questa cosa La prima Che palle Regà Sarebbe bastato Non trollare Quelle Hai trovato Un bel pettino A terra Gianco Regà Guarda Anche Una banconata Da 5.500 euro Giancone Prova Ma verso Ma la vincevi No no Sì La vincevi Ma La legge Costotto Tutto 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 Ma C'avevi Tipo Troppi Tutto Troppi Di No Bro No Non va Bene Comun Non va Bene Comun Bene